e siccome ci sono alcuni che sono entrati da poco allora rifaccio la spiegazione per l'ultima volta poi alla fine di questa spiegazione cominciamo a vedere il vostro lavoro ti chiedo un'altra cosa scusa se ti interrompo prima che tu vada avanti dobbiamo consegnarla dove c'è scritto qui puoi caricare anche la tua figurina preferita? sì esatto il link è sempre quello è sempre lo stesso il link è sempre lo stesso sia per le figurine preferite che poi vediamo diamo un'occhiata sono molto simpatiche c'è una netta distinzione tra maschi e femmine nel gioco delle figurine i maschi hanno calciatori soldatini bene allora dicevo ripeto ancora per gli ultimi entrati nel webinar che stiamo questo webinar è dedicato al metodo panini cioè è proprio un metodo non è un'attività estemporanea anche se voi la potete realizzare così un pomeriggio con la classe per divertirvi in realtà però è un vero e proprio metodo che serve per fare in modo che lo studente prenda il posto dell'insegnante sia lui a tenere una lezione alla classe se tutta la classe partecipi cooperando a questa lezione come si fa? questo lo vedremo dopo prima faremo l'esercizio e quindi contrariamente ad altri webinar durante i quali ho come premessa spiegato le metodologie che stanno alla base del lavoro questa volta invece partiamo dal lavoro per poi concentrarci sul linguaggio delle figurine la differenza rispetto ad altri linguaggi come quello video, delle animazioni, dei comics e vediamo qual è poi la pedagogia che sorregge questo metodo anche utilizzando uno schema esemplificativo della tassonomia di Bloom per vedere dove si inserisce questo sistema quindi come vi dicevo la prima cosa che siete chiamati a fare è questo esercizio l'esercizio è composto quindi da tre operazioni in sostanza la prima bisogna guardare un filmato un filmato sul blues che voi trovate all'interno del modulo di iscrizione e all'interno di WeSchool nella board dedicata al webinar adesso comunque ve lo mostro quando avete guardato questo filmato che dura solo due minuti e trenta secondi creerete una figurina e poi la posterete appunto come abbiamo appena detto prima all'interno dei link che vi sono stati consegnati anche qui e dunque adesso vi faccio vedere il filmato qui dove si trova eccolo il filmato è questo è appunto un filmato su blues che dura due minuti e rotti e però avete anche il testo quindi eventualmente se avete problemi di connessione o volete continuare a sentire quello che io dico leggete è la stessa identica cosa quindi una volta che avete acquisito le vostre informazioni sul blues che cosa farete? vi dovete entrare dentro WeSchool per scaricare il modello che vi ho preparato per creare la figurina WeSchool è WeSchool.com fate il vostro login o vi registrate quello che è e poi entrate come studente se ve lo chiede l'insegnante o studenti in questo caso siete studenti attraverso il pulsante più vi iscrivete nella classe quindi usate codice classe quale classe? la classe si chiama Webinar ed è appunto questa classe ecco è questa classe che si chiama appunto classe Webinar tredicesima stagione da gennaio 21 quindi il codice di iscrizione Webinar quando all'interno di questa classe avete nella sezione Board avete tutte le lavagne che vuol dire che sono gli spazi dedicati ai diversi Webinar in alto ovviamente ci sono gli ultimi fra i quali questo tredicesima stagione l'incredibile metodo Panini eccolo qua fate click e qui avete tutto quello che vi serve avete i compiti del Webinar con la descrizione, i link eccetera e poi avete i modelli oh, qui avete un modello album per le figurine va bene ma quello che interessa adesso è il modello figurine per Chinotto per PowerPoint a vostra scelta che cosa dovete fare? dovete scaricare uno di questi due modelli e quando l'avete fatto vi si aprirà un file così un file composto di da quante slide? vediamo da 26 slide vedete che sono tutte numerate tutte uguali cambia solo la numerazione quindi vi recate alla prima slide il testo della prima slide è questo lo rimettiamo a posto ecco alla prima slide e qui dovete scrivere il testo della vostra figurina quello che voi avete da dire su blues sulla musica blues e qui di fianco ovviamente sostituirete questa immagine con una che può essere rappresentativa del testo può integrarsi con il testo che voi avete pensato poi consegnate consegnate sempre al deposito che vi è stato indicato consegnate tutto il file di PowerPoint in modo tale che io lo possa aprire così com'è ed eventualmente fare delle correzioni vedere confronti eccetera se avete delle difficoltà fate uno screenshot e consegnate lo screenshot ecco questo è quanto adesso vi do ancora magari un paio di minuti che finite il vostro lavoro intanto vediamo che c'è Arianna Arianna ha risolto il problema di cui mi parlavi qua in chat sì perfetto benissimo ottimo e allora io a questo punto vi mostro già che ci sono le figurine che sono state caricate dagli iscritti che vedete un po' più grandina ecco queste sono le figurine caricate da voi il feroce e il saladino allora dicevo prima che c'è una distinzione netta tra maschi e femmine no? sui maschi abbiamo calciatori e guerrieri eccolo qua Pierluigi pizzaballa generazione che viene da insomma una formazione un po' sessista un po' di stereotipi di genere sì sì vedete questo è chi è questo Pulici qualcosa del genere poi questo è Gianni Rivera poi Heidi le figurine di Heidi così curiosa questa Mago Merlino Mago Merlino in inglese tra l'altro molto interessante poi i gulpini sono fantastici Nick Carter li davano anche per televisione ecco qua un guerriero album militari qualcosa del genere Candy Candy questo non so chi è non ho il nome del file qua a portata di mano vediamo se lo recupero per caso personaggi sono di Candy Candy ah sempre di Candy Candy ecco vedi grazie questo deve essere un astronauta cos'è questo chi è chi ha messo questa figurina vediamo ci arriviamo io non sono riuscita in tempo a caricarlo avrei messo Sandokan con la perla di Labuan fantastico caricalo caricalo poi la mettiamo su e le condividiamo eh non ce l'ho fatta devo farlo poi c'è questa questa è di Cristina Cristina De Negri però non ha scritto di che album è questo questo non lo so che album sia questo è un altro calciatore o a Marsivori me lo ricordo a Marsivori un grande calciatore scusa Alberto ti volevo chiedere una volta che ho fatto la figurina ma dove che la carico allora la figurina la carichi dove si caricano le figurine quindi o vai al modulo di iscrizione e c'è il link oppure all'interno di WeSchool qui nei compiti ah infatti ero entrata lì ma oppure guarda nella chat dove qui nella chat di Zoom dove c'è scritto il link del deposito perfetto grazie cioè è sempre lo stesso link l'ho messo l'ho messo in tre o quattro posti in modo che intanto vediamo che qualcosa è arrivato vi suggerirei di fare in modo che le immagini coprono tutta l'area disponibile perché vedo che alcune le avete proprio messe così lasciando lo sfondo e il problema è che io ad esempio ho fatto lo screenshot però se l'avessi allargata tutta mi tagliava via mezza immagine cioè bisogna allora usare delle immagini con delle dimensioni che siano già pensate per questa cosa qua no devi tagliarla la tagli la tagli la sposti non fai vedere tutto e ti focalizzi su un aspetto adesso infatti questo è anche un tema che affrontiamo la mia risultava però sgranata per quello che l'ho rimpicciolita sì va bene non importa certo è una prova sì va bene ok allora io direi che a questo punto visto che abbiamo ricevuto un po' di materiale possiamo cominciare a esaminarlo e poi lo condividerò all'interno sempre di questa board in modo tale che tutti lo possiate poi vedere anche nei prossimi giorni se create qualche cosa e arriva e lo depositate io lo vado a prendere e quindi lo possiamo vedere allora dunque adesso vediamo qui io ho sotto mano qui vediamo il primo che ho qua come è Alessandra Consolaro perfetto allora Alessandra io adesso apro la tua figurina eccola qua penso che la vediate tutti allora Alessandra adesso tu sei chiamata a esporre questa figurina alla classe dato che tutti abbiamo studiato tra virgolette la stessa cosa quindi primo punto è molto importante tutta la classe ha appreso un determinato contenuto in questo caso quello del blues ma solo uno di voi ha avuto l'incarico di costruire su un determinato tema una figurina in questo caso sei tu quindi tu esporrai alla classe il senso di questa figurina e quindi ti invito a prendere la parola a farlo praticamente beh sinteticamente ho scelto un testo che che dà l'introduzione al tema di che cosa sia il blues per cui sono stata abbastanza io ecco premetto che in genere odio la parola che non posso usare le slide dove c'è troppo testo però tu hai detto di mettere del testo quindi io ho pensato che fosse il caso di mettere proprio non solo delle parole io tendo a mettere solo delle parole di solito invece se ci voleva un testo a questo punto ho preso qui bisogna spiegare bisogna raccontare certo e allora questo qui il testo che parla dell'inizio poi però vorrei specificare che l'immagine l'ho scelta un po' provocatoriamente perché parliamo di una musica nera che poi è stata comunque presa anche dai bianchi e che anzi cioè è diventata anche famosa io voglio dire sono una fanatica dei Led Zeppelin che si sa che è il blues meraviglioso che hanno fatto per cui cioè adesso non sto a fare tutta la storia del blues bianco però effettivamente è una musica nera che poi ha avuto tutta una storia per cui se dovessi fare una presentazione su tutto questo farei proprio l'evoluzione di come dai canti delle piantagioni e dagli spiritual si è arrivati poi a Janis Joplin anche se chiaramente rimangono i grandi cantanti neri ma c'è anche tutto un grande blues bianco ok mi chiudo mi tratta benissimo no perfetto allora prestate attenzione adesso alla nostra procedura perché è importante poi vi mostrerò uno sketch note che vi mostra proprio il metodo che noi adottiamo allora da che cosa siamo partiti siamo partiti da un contenuto comune che dobbiamo studiare affrontare che è in questo caso il blues il genere blues alessandra che è una nostra studentessa della classe è stata incaricata di preparare una figurina diciamo sulle caratteristiche fondamentali del blues su alcuni aspetti e lei l'ha preparata l'ha mostrata a tutta la classe cioè a noi e ci ha offerto questa spiegazione adesso tocca a voi perché che cosa succede noi dobbiamo validare scientificamente questa figurina perché perché questa figurina entrerà a far parte dell'album ufficiale delle figurine che verrà stampato in classe su quel determinato argomento che potrebbe essere storia della musica piuttosto che genere blues eccetera e sul quale poi noi studieremo lavoreremo daremo degli esami faremo degli incontri e faremo tutta una serie di attività allora la domanda che il docente che sarei io in questo caso nei vostri confronti rivolge alla classe è ragazzi che cosa possiamo fare per migliorare questa figurina metterla a posto validarla correggere gli errori e sistemarla quindi io lascerei a voi la parola io ridurrei un po' il testo per me è troppo lungo no il testo non va ridotto perché è una figurina non è una slide quindi deve raccontare lo scopo è proprio quello di raccontare quindi anzi direi il contrario qui abbiamo degli spazi bianchi e sarebbe meglio riempirli ah ok e già qui abbiamo visto una differenza importante tra la figurina i comics le slide e altri linguaggi l'immagine è un po' sgranata scusate mi sono sì adesso questo non stiamo a guardarlo chiaramente perché io avrei scelto un'immagine visto che è un'attività proprio legata all'immagine io fatico a capire cosa è raccontare certo certo però siccome è un'attività che abbiamo svolto in pochi minuti diciamo diamo per scontato che poi le immagini poi c'è più tempo e possibilità di trovare immagini migliori chiaramente ma forse dovendo essere una spiegazione rivolta dei ragazzi io avrei preso solo uno dei due aspetti che ci sono nel testo e l'avrei spiegato un po' di più cioè questa è una sintesi già di tante cose di due o tre notizie forse non lo so magari invece si sarebbe potuto scegliere una cosa e spiegarla anche magari un po' di più un po' più semplicemente in modo che legge il testo no? Marina scusa se ti interrompo così diciamo andiamo avanti sentiamo diverse persone certo allora no quello che dice è giusto è molto giusto quindi segnatevelo questo segnatevelo una figurina è self-sustaining è autosufficiente una figurina una figurina è autosufficiente deve poter dire tutto di una cosa una cosa giustamente adesso io non so se per Alessandra è più importante diciamo così dare alcuni dati su blues oppure parlare del blues bianco a me sembrava per esempio se Alessandra fosse una mia allieva direi ma guarda Alessandra visto che tu hai detto queste cose particolarmente interessanti su blues bianco io ti direi di concentrarti su questo quindi creare una figurina o forse anche due data l'importanza del tema proprio su questo aspetto due figurine perché? perché in una potresti spiegare che cos'è blues bianco e nelle altre due potresti parlare delle persone no? degli artisti va bene? quindi ecco che siamo arrivati a un risultato il risultato qual è? è che attraverso un lavoro di analisi discussione nella classe con l'insegnante che ti dirà non lo so guarda che il termine piantagioni lo dobbiamo cambiare perché non è quello no? eccetera noi arriviamo alla validazione della figurina e diamo delle indicazioni precise quindi tenete a mente queste due cose fondamentali che abbiamo detto adesso la prima è che il testo deve essere narrativo e deve occupare tutto lo spazio ma non deve andare oltre chiaramente e che due la figurina deve essere autosufficiente quindi si deve occupare di un argomento e questo argomento per quanto possibile nello spazio assegnato deve essere preciso nella sostanza vediamo adesso degli altri esempi così ne vediamo qualcuno qui andiamo al fondo vediamo chi c'è qua al fondo Umberto del Buono figurina per il blues Umberto ci sei? sì ci sono ci sono allora vediamo perfetto ciao Umberto allora ecco Umberto che cosa ha fatto Umberto dice con l'immigrazione massiccia dalle campagne alla città dopo la fine della seconda guerra mondiale iniziano a svilupparsi diversi stili di blues i protagonisti di questa nuova epoca sono Muddy Water Elmore James insomma John Lee Hawker lo conosco Hopkins anche i primi grandi cantanti e chitarristi solisti B.B. King conosco B.B. King benissimo che è lui che è quello in foto esatto io non conosco molto il blues però conoscevo B.B. King quindi mi sono soffermato su questa immagine Allora Alessandro tu sei il mio studente hai creato la tua figurina e quindi come Alessandra tra l'altro Alessandro Alessandro è benissimo No no Umberto Ah Umberto scusa no Umberto mi sono sbagliato Allora Umberto puoi spiegarci il senso appunto di questa figurina Sì il senso della figurina è quello di mettere uno dei protagonisti citati nel brano nel video e quindi di riportare lui come uno degli esponenti che hanno si sono dedicati a questo tipo di musica Di musica benissimo vedo che parli della massiccia immigrazione dalle campagne alle città dopo la fine della seconda guerra mondiale interessante adesso sentiamo i tuoi compagni di classe che cosa possono dire su questa figurina Beh come quella di prima c'è il testo che ha la dunque il riguardo del testo che ha degli spazi bianchi e quindi andrebbe non so o ingrandito il carattere o aggiunto il testo Sì certo o ingrandito anche il carattere certo giusto Bene possiamo aggiungere qualche cosa sì Immagine deformata Sì ma adesso non ci occupiamo tanto delle immagini perché per le immagini poi è semplice perché basta basta far così Posso dire posso aggiungere una cosa Sì Allora nel testo si fa riferimento a diversi artisti e se io non so chi è quello perché sono un ragazzino e non lo so dovrebbe essere specificato secondo me che allora è giusto questo è giusto quindi questa è un'altra regola importante quando utilizziamo delle immagini delle immagini è bene che ci siano dei riferimenti su queste immagini questi riferimenti però noi li possiamo inserire anche nelle didascalie che avremo nell'album delle figurine l'album delle figurine infatti è composto da figurine e anche dall'album proprio come vedremo tra 5 minuti vediamo come l'album è organizzato quindi è giusto questo dobbiamo fare in modo perché questo rientra sempre nel principio dell'autoreferenzialità della figurina la figurina deve dirci tutto di quell'oggetto lì tutto l'essenziale chiaramente è giusta questa osservazione forse io aggiungerei che anche qui noi abbiamo la tendenza a parlare di più cose vedete questa tendenza ce l'hanno tutti fa parte del genere umano quando noi raccontiamo raccontiamo tante cose insieme invece dobbiamo abituarci a raccontare una cosa e a concentrarci su quella cosa quindi qui noi ci concentriamo o sull'immigrazione massiccia dalle campagne alla città che è un tema che potrebbe valere una figurina potrebbe essere interessante dopo la seconda guerra mondiale capire quello che è successo o ci concentriamo sui generi sono due cose distinte se ci concentriamo sui generi possiamo e abbiamo una preferenza per BB King possiamo parlare del genere di BB King quindi dedicare una figurina al genere a cui si rivolge BB King se voi avete presente le figurine sugli animali una figurina sulla tigre parla della tigre ovviamente non parla della tigre e del leone ecco perché 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 la figurina è autosufficiente perché la figurina si acquista in edicola ha un prezzo ha un costo e la soddisfazione consiste nell'avere tutta l'informazione necessaria per quello che tu l'hai pagata e inserirla all'interno dell'album la figurina non può essere un romanzo a puntate non può essere un romanzo a puntate perché perché tu alcune figurine le puoi avere altre non le puoi avere non puoi andare al fondo della storia perché ti arriva una figurina che ti parla della fine della storia e poi non hai la figurina non so della parte centrale della storia quindi l'album non può essere una storia l'album è composto da tante piccole storie che sono tutte autosufficienti e sono rappresentate ciascuna da una e una sola figurina posso chiederti una cosa Alberto però io ricordo degli album in cui la parte diciamo di Das Calica era sull'album non sulla figurina e la figurina era sull'immagine sì è vero questo ah ok noi invece realizziamo una figurina in cui la scritta sta nella figurina che noi stampiamo noi facciamo tutte e due perché dell'album non vi ho ancora parlato ah ok vedi questo è l'album delle figurine la figurina va incollata qua va incollata qua ma qui sotto noi creiamo anche la didascalia quindi noi abbiamo un doppio testo per la figurina ma questo ne parliamo fra poco perché vi darò poi le indicazioni per l'album vediamo ancora un paio di esempi per esempio a caso così Monica Terenghi ecco qua Monica Terenghi ecco vedete che quando l'immagine è bella ben riuscita la figurina ha un suo effetto come si diceva prima quindi questo è un aspetto che poi voi curerete ma lo sapete fare con i vostri studenti vediamo cosa c'è scritto il blues è un genere musicale che nasce negli stati del sud dell'America nel corso dell'ottocento la sua formazione si deve al connubio delle work song i canti che gli schiavi afroamericani utilizzano all'epoca per sincronizzare il lavoro nelle piantagioni croccio di cotone col di spiritual gli inni dei neri convertiti al cristianesimo l'origine mista fra sacro e profano incide sulle tematiche di cui parla dall'ingiustizia sociale alla lotta per una vita migliore perfetto che cosa mi dite cari studenti studente della mia classe cosa mi dite e oramai abbiamo già detto che sarebbe meglio allora fare una cosa più puntuale no sì io credo che questo nostro errore dipenda forse dal fatto che abbiamo interpretato il fatto che tu Alessandra non ti sento ah io ce l'ho acceso non si sente? adesso si adesso si no dicevo che forse questo errore del fatto che mettiamo dentro più cose dipende dal fatto che tu all'inizio avevi detto scegliete qualcosa che sia rappresentativo di tutto il video no e allora forse io ad esempio personalmente non avevo capito proprio che ogni no ma infatti ho lasciato ho lasciato apposta ho lasciato apposta una una consegna generica per poter avere diverse possibilità di discussione io direi che qui la foto è molto suggestiva ma non è forse rappresentativa di questo aspetto delle origini mi sembra che vabbè magari non lo so sono d'accordo io sono un'autrice sì quelli che lavorano nei campi oppure il classico insomma bluesman delle origini più che non questa suggestiva immagine certo sono d'accordo va bene tieni conto Alessandra tieni conto Alessandra che però questo sarà il frutto di una discussione perché perché tolte alcune regole alcune delle quali vi ho spiegato poi diciamo non esiste cioè esiste anche un aspetto così di piacere che la classe può avere nel decidere che magari questa immagine all'interno di un album composto da tante figurine possa invece essere emotivamente interessante quindi quello che tu dici è giusto però il consiglio che io do all'insegnante è di non trappare troppo leali diciamo poi gli studenti cercando di essere troppo aderenti a un codice perché il codice esiste ma entro certi limiti quello che a noi interessa soprattutto poi che i contenuti siano spiegati bene allora a questo proposito vedo che qualcuno aveva detto non lo so di sottolineare le frasi importanti eccetera no perché perché l'album delle figurine non è un libro di testo l'album delle figurine deve colpire l'immaginario il libro di testo non colpisce l'immaginario è una cosa che tu usi per studiare e per studiare ti presenta una serie di trucchi comunicativi che servono per catturare la tua attenzione questo no questo rimane nell'ambito di un gioco che è legato all'immaginario quindi tu lo usi certo per studiare tu hai studiato veicola dei contenuti sicuramente ma non eccediamo nella struttura di questo oggetto come oggetto di apprendimento cioè istituzionale classico quindi io direi niente colori niente sottolineature niente spiegazioni ulteriori proprio l'album delle figurine tu prendi la figurina la incolli e hai la tua soddisfazione di aver costruito in classe l'album adesso io farei così scusa Alberto posso chiederti una cosa guardi un attimo la seconda slide che ho fatto che è sotto che è identica scusa però l'ho messa in orizzontale cioè si può cambiare il layout o è meglio che abbiano tutte lo stesso secondo te allora il layout no è meglio che abbiano tutti lo stesso layout e questo per diversi motivi primo per la coerenza dell'album perché le dimensioni delle figurine devono essere tutte uguali altrimenti noi andiamo incontro a dei problemi di stampa e a dei costi di stampa che richiedono una fustellatura che non ci possiamo permettere ovviamente e quindi devono essere ecco perché vedete qui avete tutte queste figurine sono tutte uguali poi il secondo motivo è che noi lavoriamo sull'immagine in questo modo costringiamo i nostri ragazzi a operare delle scelte sull'immagine e quindi anche a tagliarla è probabile che magari l'immagine è tutta intera no no in questo caso no lì era già tagliata era già tagliata va bene quindi noi costringiamo i nostri ragazzi a recuperare una parte dell'immagine perché è ovvio che all'interno di questo formato se noi costringiamo l'immagine qui dentro l'immagine viene deformata quindi la dobbiamo tagliare e allora dobbiamo scegliere delle immagini che stiano bene dentro questo formato oppure a operare un ritaglio che focalizzi l'aspetto è molto importante questo è molto importante dal punto di vista educativo perché perché insegniamo ai nostri ragazzi a operare delle scelte a tagliare proprio a scegliere a operare proprio dei tagli è veramente importante questo vediamone ancora una poi passiamo questo è Cristina vediamo un po' a caso vado poi le metto tutte dentro we school così voi potete anche e possiamo anche continuare il confronto attraverso le chat di we school ovviamente eccolo qua dice il blues è un genere musicale che nasce negli stati del sud dell'america nel corso dell'ottocento e tratta tematiche dell'ingiustizia sociale alla lotta per una vita per una vita migliore musicalmente una forma semplice ripetitiva formata da strutture con una forte carica emotiva ok cosa avete da dire su questa figurina ma che secondo me l'immagine ripete un testo e forse invece sarebbe meglio che l'immagine non avesse parole cioè che fosse proprio un'immagine e poi di nuovo il testo parla di troppe cose cioè parla degli aspetti musicali della forma musicale delle origini delle tematiche che dovrebbero afferire a figurine diverse allora dove possiamo utilizzare un testo che parla di diverse cose nell'introduzione nelle primissime sì forse anche non nella figurina ma per esempio all'interno dell'album lo possiamo vedete possiamo avere magari la pagina introduttiva di un argomento potrebbe presentare un testo così generico di presentazione di quel tipo e poi le figurine potrebbero essere più specifiche dentro l'album possiamo inserire anche delle tabelle per esempio oppure vedete questa pagina contiene tre figurine e un testo magari di presentazione questo voi lo trovate nel modello dell'album ma adesso poi vi faccio vedere anche proprio gli album e anche gli album stampati a me per esempio viene in mente che questa figurina è diciamo che si scelgo meno di avere una una scritta è una figurina che per i colori che è presente la grafica che è presente è molto di impatto molto leggibile si legge molto bene quindi una mania mi serve per dirvi che siccome le figurine saranno diverse fate in modo che qualche vostro studente produca delle figurine che abbiano un certo impatto altre magari lo possono avere meno magari alcune figurine contengono dei grafici contengono non so delle informazioni che richiedono una certa attenzione una certa leggibilità altre invece possono essere più leggere come questa e quindi favorire poi la visione dell'album bene adesso vediamo come tutto questo si compone nel nostro discorso di proprio metodologico cioè come noi utilizziamo questo linguaggio prima di tutto così brevemente dobbiamo capire che ogni strumento ha un suo linguaggio un suo codice precisa delle sue regole che noi non possiamo prendere tutti i linguaggi e buttarli nel calderone dell'apprendimento e trattarli tutti allo stesso modo se è chiaro qual è la differenza tra una scrittura e delle figurine per esempio forse è meno chiaro qual è la differenza tra un comics per esempio un fumetto e l'album delle figurine osservate osservate una pagina una pagina di fumetto con i suoi disegni i suoi testi le conversazioni i dialoghi ecc si è bloccato ecco scusate forse avevo zoomato troppo ecco qua ecco osserviamo queste due categorie i comics e le figurine le figurine hanno una narrazione ellittica cioè il comics ha una narrazione ellittica che cosa vuol dire? vuol dire che tra una vignetta e l'altra capitano delle cose che non vengono raccontate per esempio a differenza di un filmato noi abbiamo una narrazione continuativa poi ci sono delle ellissi perché si passa da una scena all'altra chiaramente ma la narrazione di una di una storia a fumetti invece è molto più frammentata ma ha la caratteristica di una storia cioè ha una continuità le figurine invece questa continuità ce l'hanno solo perché parlano di un argomento e quindi l'argomento rappresenta l'insieme il filo rosso che lega le diverse figurine ma non c'è una vera storia non esiste una storia per la quale si passa dal cotone al caffè o dal caffè alla raccolta della gomma quindi quello che vi dicevo prima è molto chiaro cioè la figurina è autosufficiente ha una narrazione episodica mentre la scrittura i filmati i fumetti hanno una narrazione continua quindi ho separato questi linguaggi in due gruppi sopra ho inserito i linguaggi che rappresentano una continuità narrativa e sotto invece ho messo questi linguaggi come l'album delle ricerche non so se ve lo ricordate non so neanche se ci sono ancora adesso in circolazione ma questi album delle ricerche si presentano come delle figurine e quindi la caratteristica principale di queste figurine è che forniscono un apprendimento circoscritto molto circoscritto autosufficiente e quindi è un apprendimento ideale perché è un apprendimento ideale? perché è un apprendimento che è come è come pensate a un laboratorio a un laboratorio all'interno del quale noi facciamo un esperimento e stiamo facendo un esperimento che ha come tema un oggetto particolare bene è questo che noi chiamiamo a proporre che proponiamo ai nostri studenti non proponiamo di svolgere una lezione o diciamo una ricerca una presentazione su un insieme di cose ma di focalizzarsi su un aspetto che ha un inizio e una fine che è autosufficiente e che quindi ci consente proprio di esaminare tutto all'interno di questo aspetto come avete visto prima la chiacchierata che ne viene fuori è molto significativa perché è molto significativa? perché è molto concentrata non chiediamo allo studente di fare una presentazione sulla caduta dell'impero romano perché presenterà una figurina su un aspetto preciso che dovrà essere collocata all'interno di un album all'interno del quale poi ci saranno tutte le figurine che rappresenteranno poi l'insieme dell'argomento del modulo eccetera che abbiamo trattato dove si colloca questo sistema sulla scala tassonomica di Bloom quella che è stata modificata all'inizio del 2000 dai suoi due studenti che hanno inserito la creatività si colloca qui qualcuno di voi parlava di qualche cosa che assomiglia a una sintesi infatti si colloca proprio tra la sintesi e la creatività non è esattamente una sintesi nel senso che non è una formula sincopata una frase uno slogan così ristretto come potrebbe essere all'interno di una vera slide chiaramente Alessandro ne parlavi prima quindi una parola un concetto eccetera ma è una via di mezzo tra una sintesi e un racconto attraverso però una forma espressiva particolare perché la capacità è quella di unire appunto il racconto all'immagine e e a un qualche cosa che chiuda il discorso all'interno di quella figurina lì come si produce quindi ripetiamo alcuni concetti del metodo che utilizziamo per produrre proprio la figurina non per impegnare lo studente nella lezione la produzione è questa abbiamo visto che avete le figurine che sono di una dimensione stabilita questa dimensione è stabilita perché deve essere stampata deve essere stampata in modo tale che lo possiate fare a scuola attraverso una normale stampante laser a colori oppure lo possiate portare il pdf in un centro di stampa e per pochi centesimi addirittura gli ultimi album che ho stampato non costavano più di un euro e mezzo due euro l'uno quindi veramente cifra e molto modeste in questo modo noi riusciamo a contenere i costi e a stampare tutto l'album che relazione c'è tra la dimensione della figurina e la stampa è questa che vi ricordate le slide che vi ho mostrato prima cioè quelle della figurina sulla quale voi avete lavorato che sono queste vedete che in realtà queste slide non hanno la grandezza che abbiamo stabilito qui cioè di quei centimetri che sono stati indicati prima quindi voi mi dite ma come faccio io a stamparle in quel formato bello voi lo fate così voi dovete stampare una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto nove figurine per pagina allora la dimensione che è stabilita qui che è la dimensione della figurina sull'album quindi l'area che la figurina ricopre sull'album stesso sarà perfetta perché voi le avete stampate quelle figurine a nove per pagina ovviamente le stampate su carta adesiva in modo tale che i ragazzi la possono poi ritagliare e incollare e quindi se tutto questo file quando è completo con le sue 26 figurine lo stampate gli date come comando di stampa stampa nove figurine per pagina voi otterrete che cosa voi otterrete se guardate lo schermo la mia la mia camera voi otterrete questo risultato aspettate che tolgo lo sfondo ecco voi trovate questo risultato questa è una una pagina stampate stampate su carta adesiva quindi qui si stacca la pellicola e voi avete le nove figurine quindi il testo è leggibile ecco perché anche il testo non può essere ridotto troppo chiaramente perché i file che io vi ho dato sono esattamente calcolati per ottenere questo risultato e avrete un album stampato che risulta così e quindi la figurina che voi ritagliate è perfetta per essere collocata nell'area in cui l'album è stato stampato che formato è questa pagina questa pagina è un formato A3 quindi vi basterà stampare in formato A3 su una una carta un po' spessa carta patinata un po' spessa ogni pagina la unite a un'altra quindi stamperete due pagine insieme perché ognuna è una quattro e tutte e due formano una A3 quindi voi stampate le pagine dell'album in formato A3 mentre stampate le figurine nel formato A4 e ogni ragazzino ogni genitore ogni chi volete voi avrà il suo album con vedete le figurine all'interno questo è un album delle figurine di scienze questo è di storia ed è proprio bello averlo di carta l'album anche se ne abbiamo create delle versioni digitali interattive molto belle poi ve le farò vedere quindi concludiamo però questo discorso questo testo al massimo può avere 500 battute perché oltre le 500 battute è esagerato e poi non si legge più nella stampa perché stampando nove figurine per pagina il testo poi si rimpicciolisce ecco perché voi lo vedete così grande voi lo vedete così grande perché è fatto per essere stampato poi ricordatevi sempre di cambiare il numero perché la figurina si incolla sul numero che è stabilito sull'album se voi non avete un numero di riferimento nessuno sa più dove incollare le figurine quindi non dimenticatevi questi dettagli comunque qui è spiegato quello che vi ho detto ecco come funziona invece proprio in classe il metodo allora partiamo da quello che fa l'insegnante l'insegnante è la prima cosa che fa l'insegnante è stabilire un argomento e questo argomento deve essere un po consistente non può essere Leopardi l'album delle figurine su Leopardi o non lo so sulla fotosintesi clorofiliano sarà l'album delle figurine del programma di letteratura di italiano di quest'anno o di scienze di quest'anno quindi avete già capito una cosa importante noi creiamo un album delle figurine che sarà pronto verso la fine dell'anno e sarà qualche cosa che ci portiamo dietro ma affinché sia pronto alla fine dell'anno noi organizziamo questo lavoro dall'inizio e che cosa facciamo? stabiliamo in classe che cosa devono su quali argomenti i ragazzi devono presentare le figurine come abbiamo fatto con voi oggi allora ci sarà Valeria sull'origine del blues Elisabetta sull'immigrazione dopo guerra Alessandra sul blues bianco e così via stabiliamo un piano ce le scriviamo le cose quindi Mariolino farà questo Giovanni quell'altro e così via intanto noi però studiamo gli argomenti siamo arrivati al punto di studiare il blues dei bianchi quindi tutta la classe studia il blues dei bianchi non è un'attività frammentata attenzione tutti studiano tutto la differenza è che mentre non lo so faremo un compito in classe una verifica Valeria sarà interrogata vai a capire cose eccetera ecco che Fabrizio presenterà sul blues dei bianchi una figurina quella sarà la sua verifica e lo presenterà a tutta la classe quando quando tutta la classe ha studiato il blues dei bianchi così come abbiamo fatto noi oggi e quindi attenzione non è una ripartizione di compiti non è che Mario studia il blues dei bianchi Antonietta il blues dei neri e dopodiché Mario non sa l'argomento di Antonietta e viceversa no, l'album delle figurine riguarda il programma di insegnamento di un anno scolastico di tutta una classe e utilizziamo la costruzione dell'album delle figurine per fare che cosa? per permettere allo studente di prendere il posto dell'insegnante e non è una presentazione come avete visto è una vera lezione che lo studente fa presentando questa figurina questa figurina vedete l'insegnante si siede insieme agli studenti queste sono foto di questo lavoro che ho fatto in una scuola media si siede tra gli studenti e poi deve validare scientificamente insieme alla classe la figurina perché? perché bisogna togliere gli errori chiaramente no? che possono capitare mettere a punto il testo e il testo si mette a punto proprio nel momento stesso in cui la figurina viene presentata quindi non si fa come abbiamo fatto noi oggi ma oggi noi non avevamo il tempo perché stiamo all'interno di un webinar ma altrimenti avremmo dovuto scrivere le correzioni direttamente all'interno del testo e quindi se si diceva togliamone una parte proprio la dovevamo togliere però avremmo dovuto aggiungere la spiegazione ulteriore cioè la figurina va finita finita nel momento in cui viene presentata perché? perché l'insegnante le raccoglie l'insegnante le raccoglie le tiene tutte su un file quindi le tiene tutte qui lui ha questo file e ogni volta che gli viene consegnata una figurina tac la prende la mette qui magari gli può capitare che la 5 gli arrivi prima della 3 non importa lui si terrà questo file è l'insegnante che lo tiene questo file poi naturalmente date lo screenshot ai ragazzi quello intanto ci si lavora va benissimo ma noi dobbiamo conservare il nostro file di tutte le figurine perché poi siamo noi che porteremo in stampa il lavoro quindi importante il tema della validazione in classe non può essere un lavoro che viene portato avanti il giorno dopo se uno studente non ha preparato la figurina quella figurina si salta si passa un altro deve essere un lavoro preciso in cui si abitano i bambini o gli studenti più grandi a lavorare con metodo e con precisione e lo possiamo fare perché perché è una figurina che devono preparare al massimo in un anno scolastico ne preparano due se abbiamo una classe di 20 e le figurine sono 40 quindi bisogna essere molto precisi perché noi attraverso questo sistema insegniamo anche un metodo di lavoro attento e che rispetta i tempi e le consegne perché perché tutta la classe è coinvolta in questo lavoro e noi non possiamo andare avanti se non abbiamo tutte le figurine quindi attenzione non è una presentazione ah sì butta sulle slide di powerpoint sulla caduta di impero ma no 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 non è così quindi non ho nient'altro da arrivare su questo tranne che farvi vedere proprio fisicamente due album delle figurine digitali scusa Alberto posso fermarti un attimo per farti una domanda certo assolutamente tutte le domande che vuoi tanto io cerco per quanto riguarda la produzione tu hai detto che porti l'album al centro di stampa e poi stampi invece su carta adesiva le figurine esatto è un costo molto alto portare al centro di stampa anche le figurine da realizzare no portare tutto figurine album ti ho detto che costa intorno ai 2 euro grosso modo ah comprese le figurine comprese le figurine comprese circa una trentina di figurine quindi tre pagine scusa allora non avevo capito io adesso poi potrebbe addirittura costare ancora meno perché ci sono i servizi di online che io non ho utilizzato perché ho un service di amici sono molto bravi andiamo sempre lì ci fanno degli ottimi prezzi eccetera ma credo che in internet costi ancora meno tra l'altro se si usano quei quei modelli dunque se voi voi potete cercare degli album delle figurine per esempio mattoncini di storia album delle figurine lo potete trovare in Apple Libri questo lo trovate solo in Apple Libri mentre 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 dove è l'altro mentre ce n'è un altro sull'alimentazione che potete trovare invece anche nei vari store come Street Libri Book Republic eccetera adesso poi lo troverò ma è solo per farvi vedere come può essere presentarsi un album delle figurine digitale apriamolo vediamo che cosa succede ecco abbiamo la copertura è esattamente identico a quello di carta quello stampato se voi fate un tap su una figurina ovviamente la figurina si apre e diventa leggibile notate che c'è un testo che spiega così la cronologia se vogliamo e poi invece abbiamo i testi all'interno della figurina e quelli invece le didascalie esterne e poi abbiamo anche delle fotografie delle immagini di sfondo e dunque vedete questo riguarda questo invece non è scuola media questa è scuola superiore quinto anno e dunque i ragazzi hanno portato all'esame questo album delle figurine come proprio il lavoro che abbiamo svolto che software hai usato Alberto per creare quello digitale è qui una cosa complessa perché uso un'applicazione che si chiama pubcoder sì sì la creazione di libri interattivi e la loro pubblicazione non è una cosa immediata da fare ma vorrei tenere però dei webinar su questo tema dei webinar specifici proprio su questo tema anch'io avevo una domanda sì sì tutte le domande che volete no è una curiosità così che tutte le volte ricorre nel caso di album invece realizzato e poi stampato lì non ci sono problemi nell'utilizzo delle immagini perché diciamo è una cosa che rimane tra noi ma anche se tu la diffondessi non esistono problemi per le scuole di diritti di immagine non esistono ma proprio zero la scuola non ha problemi di diritti di immagine la scuola pubblica perché la scuola privata è un altro paio di maniche la scuola pubblica dato che non si configura come esercizio commerciale a differenza di una scuola privata la scuola pubblica ha il diritto di utilizzare musiche film addirittura c'è una sentenza al tribunale di Milano che stabilisce che una scuola ha il diritto di fotocopiare integralmente un libro di testo e distribuire dagli allievi non abbiamo problemi gli unici problemi che tu puoi avere se vendi il tuo prodotto allora questo non lo puoi fare certo quindi basta citare la fonte chi ha fatto la foto insomma giustamente tutto quello che riguarda i diritti dopodiché siamo a posto perfetto grazie però per esempio io all'università ho un problema diverso che la mia istituzione vuole che usiamo solo creative commons e creative commons senza diritti va bene ma se dovete usare se vi impongono questo se vi impongono questo usa wikipedia tutto quello che gli argomenti non è facile per cui vabbè è un po' un problema comunque io in genere metto la postilla che tutte le immagini tutte le cose sono usate secondo quello che dicevi tu appunto sì ma certo ma non succede niente guarda non succede proprio niente assolutamente niente non esistono problemi è stato a memoria d'uomo è stato ha avuto dei problemi solo un insegnante in un'occasione ma perché quell'insegnante utilizzava immagini di musei cose eccetera che lo si può fare ma lui lo usava su un sito dove vendeva delle cose quindi naturalmente il giudice ha detto che lui utilizzava utilizzava queste queste immagini per spingere vendite di altri prodotti allora questo diciamo invece è scuola media è quello che vi ho fatto vedere prima un modello così qui è carino perché vedete bisogna passare il dito così passi con il dito e poi schiacci sul pulsantino e ti appare la figurina però devi tenere premuto per leggere la figurina sempre fatto con l'app di cui dicevi prima sì esatto ma qui ci sono operazioni di coding all'interno perché è una un'applicazione molto sofisticata ma non così complicata però che serve per produrre proprio ebook interattivi interessanti se voi andate in Apple Libri oppure in Streetlib lo store di Streetlib potete potete scaricare per esempio Cardibà che è uno storytelling gratuito che ho creato e vedete che all'interno ci sono anche dei giochi oppure scaricati i libri te lo spiego io in italiano che è un lavoro che ho fatto per l'Istituto dei Tumori di Milano reparto pediatrico che è un libro fortemente interattivo così vedete come funziona te lo spiego io te lo spiego io lo trovate su diversi store Alberto Piano te lo spiego io e vedete però diciamo l'album delle figurine è bello averlo di carta perché questo è un di più una cosa così ma il bello è proprio incollarle attaccarle queste figurine se avete visto nel modulo di iscrizione c'è un filmatino con un ragazzo appunto di scuola superiore è una cosa estemporanea così che che stava ritagliando sì molto simpatica dove io lo prendo in giro perché gioca con l'album delle figurine invece vedete si appassionano moltissimo anche i ragazzi e poi è un loro prodotto perché fatto in quel modo lì cioè creato proprio con questo sistema quindi ogni alunno dovrà spendere un paio d'euro per avere il proprio sì beh è fantastico sì sì 2 euro ma se poi la scuola c'è una stampante a colori in formato a 3 fate rientrare i costi dentro come viene da me per esempio una domanda invece come mai non è possibile utilizzare sfruttare google presentazioni condivisibile con gli studenti dicendo già in anticipo tu dovrai Pierino deve occuparsi della figurina 1 o 2 lo puoi fare lo puoi fare certo si può fare no perché avevo capito che l'insegnante deve tenere lui la gestione delle figurine allora io preferisco così perché trovo più educativo che ci sia una distinzione precisa cioè io sono il committente dell'album e a me tu rispondi ed è a me che deve rispondere non all'insieme della classe faremo altri lavori cooperativi ma secondo me non è il più adatto questo perché qui qui tu sei autore e io sono l'editore e quindi tu devi consegnare entro un tempo stabilito secondo determinati criteri eccetera eccetera io voglio insegnarti anche questo che fa parte della vita e non diciamo non è una cosa che io darei in mano dal punto di vista della gestione ai ragazzi no la gestione la tengo io i ragazzi devono occuparsi con precisione invece del prodotto come se fossero proprio in effetti lo sono degli autori ok grazie poi il momento invece importante di condivisione è proprio la discussione in classe si crea anche un pathos una importanza del lavoro capisci sul quale bisogna puntare perché tra l'altro noi dobbiamo puntare su questo beh dobbiamo puntare su questo perché il linguaggio delle figurine ma voi non sapete che fatica io ho fatto a pubblicizzare questo webinar perché non è capito no è di figurine vabbè le figurine dai c'hanno le figurine no no le figurine come avete visto sono una cosa seria seria bella che produce anche un risultato importante quindi è difficile far capire questo allora proprio per questo motivo abbiamo bisogno di un'organizzazione che non lasci intendere che questo così è un lavoro fra i tanti che si possono fare è un gioco tra i tanti sì è un gioco ma è un gioco che ha un fondamento pedagogico importante lo penso anche come momento ad esame alla fine del primo ciclo di terza media brava ma brava esatto pensa tu portare questo è il momento adatto perché sei a marzo ormai il programma sapete che cosa avete fatto quello che manca quindi adesso tu in classe imposti questo lavoro ogni ragazzo prepara una o due figurine al massimo dedicate un'ora alla settimana per vedere queste figurine mettere da posto validarle e voi vi trovate con una cosa bellissima da presentare alla commissione per chiudere l'anno scolastico come ricordo noi abbiamo fatto anche per esempio riunioni con i genitori e poi ai genitori abbiamo dato l'album delle figurine è bello è più bello che non far vedere non so un qualche cosa che si è realizzato elettronicamente che mostri con una limb e poi dice andatevelo a scaricare e notate che io sono un appassionato del digitale straordinariamente appassionato quindi però l'album delle figurine è un album è una cosa diciamo che si potrebbero fare sia l'uno che l'altro tanto il materiale per renderlo digitale possibile infatti a volte facciamo sia l'uno che l'altro io ho una domanda ma la carta piace così tanto che qualche volta in qualche riunione in presenza con degli insegnanti ma sapete che io facevo circolare questi album e poi mi venivano restituiti guardate tagliati senza le figurine dagli insegnanti io facevo circolare l'album per farlo vedere e questi di nascosto tagliavano le figurine per prendersi un ricordo roba ma neanche i bambini no? proprio roba da male posso chiedere due cose? sì è una per il layout per l'album come come l'ha impostata e poi sul filmato OVO è difficile da realizzare non lo conoscevo questo sito quale? quello dove era il video con il blues sotto sì c'è OVO ovo.com ovovideo.com è fantastico ha un sacco di argomenti guarda il layout è questo qua quindi voi che cosa fate? voi tirate via ops questo stesso voi fate così voi tirate via questa immagine e la sostituite oppure io col mac qui basta che faccia clic e qui la sostituisco poi qui voi scrivete dentro no? non vi piace? lo mettete qui lo volete ruotare lo ruotate l'importante è non modificare mai questo rettangolo perché se no non avete più la figurina certo questo rettangolo così che sta esattamente qui sopra è calcolato in modo che la figurina stia qui stampata a nove pagine per poi qui scrivete è fatto apposta vedete anche il carattere eccetera è già stabilito in modo tale che il testo sia giusto non sia né troppo per la stampa e dico sì cioè stampando questo album qui con questa grandezza voi leggerete l'album quindi usatelo come modello se non vi piace questa tabella la togliete cioè no 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 va bene mi era sfuggito questo punto invece quello del sito di OVO fornisce lo strumento per realizzarlo in quella maniera col testo no quello è un sito dove ci sono dei filmati di due o tre minuti e siccome noi avevamo poco tempo ok ne ho scelto uno così carino per farvi lavorare in breve tempo all'interno di un webinar e proporvi di costruire una quindi se uno dovesse caricare la un video deve scrivere il testo poi giusto? sì ma il testo c'è dentro OVO tu hai anche i testi guarda no nel senso che se lo faccio io ho un video no ma tu non devi fare il video tu qui stiamo parlando di costruire un album delle figurine questo video non c'entra niente è solo un pretesto per farvi costruire una figurina sì 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 non mi era parlata su questo argomento per i fatti miei no 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 questo non c'entra niente è un pretesto qualsiasi però se tu fai una ricerca dentro OVO trovi sì sono tanti video questo l'ho visto sì sì sono molto belli durano tre minuti hanno un linguaggio adatto ma questo è un altro argomento non c'entra nulla vabbè no niente pensavo di sì no figurati figurati posso fare sì posso fare allora la prima domanda è più a carattere tecnico cioè guardando l'impostazione dell'album io vedo la figurina e poi sotto un riquadro dove presumo vada una scritta però quando abbiamo preparato le figurine la scritta era laterale sì la scritta è laterale abbiamo due scritte abbiamo una scritta laterale vedi abbiamo abbiamo sì sì abbiamo una scritta laterale vedi voi avete creato questa figurina con la scritta laterale e poi sotto c'è un'altra quindi il ragazzo come non è troppo scritto cioè come si fa la differenza no 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 non è troppo scritto perché la figurina deve essere autosufficiente deve poter raccontare di quell'argomento lì e sotto che va scritto poi e sotto scriverai qualche cosa di più generico oppure che riguarda direttamente l'immagine cioè mentre qui puoi noi per esempio in questo caso tu hai una precisazione che riguarda un'azienda alimentare che produce delle cose e qui hai invece la spiegazione sulla qualità del prodotto quindi sono due testi diversi e quando il ragazzo deve preparare la figurina si concentra prepara anche questo testo prepara sia il testo della didascalia che quello della figurina prepara le due cose la seconda domanda che ti volevo fare era piuttosto metodologica cioè quando presenti il lavoro per esempio a marzo come hai detto tu ai ragazzi di farlo come che indicazioni dai cioè forse non mi so spiegare anche noi oggi quando abbiamo fatto questo lavoro in realtà sulla base delle tue indicazioni poi siamo andati un po' fuori tema perché non avevamo precisamente l'idea i ragazzi che devono poi presentare la figurina diciamo devono fare questa sottra direzione non avendo un esempio chiaro sono in grado di farlo oppure tu fai prima degli esempi concreti no allora intanto io con voi vi ho voluto mandare fuori strada apposta anche per avere del materiale su cui discutere e quindi non sono stato volutamente preciso nelle indicazioni è chiaro e invece con i ragazzi noi siamo più precisi perché perché noi sappiamo che non so prendiamo un argomento che industria alimentare ok l'industria alimentare è stato diviso in quattro argomenti quattro figurine chi ha diviso questo in quattro figurine io l'ho diviso in quattro figurine perché io so quali sono i punti che è bene tralasciare e quali sono invece le cose e quindi ho proposto a Mario di occuparsi di questo a Giovanna di quest'altro a Cristina di questo sulla base di che cosa ho proposto beh per esempio se Cristina non so non ha mai non l'ho mai sentita bene sulla questione banane io insisto perché sia lei a occuparsi del tema banane ma questo è un mio modo di procedere voglio mi piace impegnare i ragazzi su argomenti che li prendono anche un po' alla sprovvista perché magari non se ne sono occupati bene eccetera però ognuno può adottare un criterio diverso il ragazzo che cosa deve preparare deve preparare due testi uno interno alla figurina e uno esterno sulla base poi dell'immagine che il ragazzo sceglie anche poi decidiamo se il testo deve essere un commento all'immagine una precisazione alle volte può essere una definizione che starebbe male qui perché qui il testo magari è più discorsivo e qui è più enciclopedico se vuoi vi potete arrangiare voi potete anche eliminare se volete questo testo perché prendete il modello che vi ho dato fate così e lo togliete io non lo consiglio non lo consiglio perché perché intanto questo è un lavoro didattico quindi ai ragazzi scrivere serve e avere in mente quello che c'è da dire è importante e dunque siamo come dicevo prima un linguaggio che si colloca a metà strada tra la sintesi e la narrazione non è proprio una sintesi ma non è neanche una narrazione completa bisogna entrare in questa logica per cui la figurina non può essere non può essere la figurina del calciatore dove c'è scritto solo il calciatore quando è nato in che squadra gioca e e non può essere però un fumetto perché non abbiamo lo spazio il tempo non è quello che dobbiamo realizzare cioè una storia sull'alimentazione per dire il comics è un altro linguaggio è proprio una via di mezzo tra la sintesi e le racconti va considerata così e sulla base della tua esperienza pensi sia adatto solo a partire alla scuola secondaria o potrebbe essere fatto prima una quinta primaria no dall'elementare in su anche con bambini molto piccoli anche con bambini di scuola materna che non sanno scrivere ma che possono disegnare le figurine e raccontare per esempio non lo so come si prendono i piatti dalla mensa come ci si lava le mani come si usano le mascherine che ne so e lo possono fare tramite disegni sicuramente magari disegni numerati uno due tre quattro e tu hai l'album su l'igiene igiene in classe no cioè la figurina è un linguaggio è un linguaggio adatto a tutti che appassiona tutti quanti e che puoi adattare naturalmente in tutti i modi che vuoi anche gli adulti tu devi vedere i genitori quando trovano gli album delle figurine così come ma vi ho detto che i miei i colleghi quando quando ci incontravamo facevo dei seminari in presenza e mostravo gli album delle figurine gli album sparivano e addirittura tagliavano le figurine perché si li portavano a casa una domanda non si presta invece un album delle figurine sto sempre pensando all'esame di terza media pensate è molto personale una sorta di portfoglio che raccolga delle varie discipline gli aspetti che li hanno magari più colpiti e appassionati no questo no è sprecato secondo me è un lavoro impegnativo che viene sprecato perché uno studente da solo non può fare un album completo e non riuscirebbe a capire si ridurrebbe il linguaggio delle figurine a una banalizzazione di presentazione di qualche cosa che non invece così cioè su il programma che abbiamo svolto che impegna tutta la classe a costruirlo dove tutti sanno tutti cioè a qualsiasi pagina tu lo apri i ragazzi sanno parlarti e spiegarti di questa cosa qui qui tu hai una cristallizzazione hai una cristallizzazione di un percorso di un sapere puoi lavorare sulle metaconoscenze dello studente perché lo fa riflettere su quello che lo hai studiato come ha studiato come lo presenta come scrive come partecipa al lavoro per creare l'album no direi che è sciupato ok secondo me Alberto ti posso chiedere perché se opti poi per quella strada è chiaro che poi non ne puoi fare un altro su una disciplina ma è bello proprio scoprire la disciplina riscoprire la materia tu prendi la vita degli animali e guardi le figurine sugli animali magari sai già tante cose però te la riguardi ce l'hai in mano ed è ed è ed è proprio quello che tutti insieme avete fatto su quell'argomento l'album delle figurine è per definizione sociale non è non può essere individuale tutti condividono le figurine e tutti condividono lo stesso linguaggio non è questo il caso ma altrimenti quando tu compri le figurine poi hai le doppie e te le scambi perché? perché c'è un linguaggio comune e un contenuto comune a cui tutti partecipano se l'album diventasse individuale perderebbe questa caratteristica sociale sarebbe una contraddizione proprio del linguaggio perché fare un album delle figurine per presentare qualche cosa di personale non avrebbe senso mi è venuta in mente questa cosa qui magari una stupidaggine un compromesso tra virgolette tra una storia che non deve essere una storia ma un percorso sintetico potrebbe essere utilizzato non so per per raccogliere i personaggi non so i personaggi dell'Iliade dove come no certo infatti ci sono certo assolutamente come no certo sarebbe sarebbe un album a forte contenuto psicologico per esempio certo assolutamente d'altra parte tu hai gli album delle figurine sui personaggi della storia i grandi scienziati eccetera avevi la pagina su Leonardo la pagina su Galileo eccetera sì certo come no assolutamente però deve rimanere qualcosa di collettivo sul quale tutti condividono le stesse conoscenze e poi acquisiscono anche le stesse competenze scusa Alberto posso chiederti sì tutto quello che volete della copertina non riesco a capire come impostare la copertina le due copertine esterne ah beh io ho messo solo una cosa così un titolo da qualche parte poi qui disegnate è anche bello disegnarla se avete la possibilità la copertina poi nella copertina è importante che ci sia qui il logo della scuola non so avete un vostro marchio non ce l'avete createlo un qualcosa di identificativo e poi magari l'elenco degli allievi ottimo grazie poi sai l'importante è che le pagine siano pari vedi una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci questa decima pagina non contiene figurine può contenere delle indicazioni spiegazioni ringraziamo il papà di Giovanni che ci ha stampato ci ha dato la colla eccetera poi non so le nostre fonti sono il libro di testo poi abbiamo consultato quelle immagini vengono da eccetera eccetera qui potete utilizzare questa pagina che sarebbe la quarta di copertina ma qui dovete toglierlo non dovete stampare quarta di copertina dovete scrivere un titolo o qualcosa e poi la organizzate come volete per dare delle informazioni non so la foto dei ragazzi che hanno partecipato fate le foto in classe dei ragazzini con gli album mentre incollano le figurine eccetera ecco l'importante è che siano sempre pari perché perché due pagine così fanno una pagina a quattro certo posso chiederti un'altra cioè una pagina a tre a tre scusate voglio dire due pagine stampate insieme così fanno un foglio a tre ottimo e si possono anche replicare giustamente giusto esatto un'altra domanda questa è sulla competizione quella che è tipica delle dei nostri antichi vecchi albote figurine allora io ho tante classi insegnore non lo so mi deve venire un'idea però il fatto di perché tu lo scopo è consegnare ad ogni ragazzino alla fine oppure anche a non so l'album con le rispettive figurine ma poi viene meno dimmi tu che subizione si può dare il fatto di di poter cioè le incollano d'accordo sì perché è un lavoro fatto in classe perfetto questa è la soddisfazione ma la competizione come la mettiamo ebbè basta che tu togli un foglio da ogni album a caso e te lo tieni e il ragazzo se lo deve conquistare attraverso una verifica o qualcosa ah ecco bello per completare l'album bell'idea grazie sì oppure dai due fogli uguali di figurine uguali cioè ragazzo ha quattro fogli di figurine di cui due tre sono a posto e un altro una copia che ha già quindi dovrà scambiare le figurine per esempio già poi io a te direi ti consiglierei di se tu hai diverse classi di aumentare le pagine qua per esempio aumenti di due pagine no? così lo porti anziché a 10 a 12 pagine quindi aumenti le figurine che saranno 10 in più quindi anziché 26 in questo caso saranno 36 le figurine perché? perché poi assegni una pagina a ogni classe potresti lavorare in un modo un po' diverso esatto perché io ho 21 classi perché anziché fare 8 album ne fai uno che vada bene per tutte le classi poi tu hai un'ora alla settimana cos'hai no? quindi non puoi non puoi far lavorare tu non tu non puoi tu non puoi impegnare uno studente per ogni qui vedo che Elisabetta se ne va bene saluti e qualcuno non riesce a scaricare a entrare in WeSchool se non entri in WeSchool Antonella scrivimi che ti mando i modelli a parte basta mi mandi una mail quindi io ti consiglierei di fare così una classe anche se hai 20 allievi non importa fate 4 figurine perché comunque tu hai 1 2 3 4 5 6 7 8 testi hai 8 testi hai 4 immagini quindi hai già 12 studenti da mettere al lavoro per dire si capito poi c'è lo sfondo da fare che possono farlo in 2 sono già 14 allievi cioè insomma ti organizzi in modo tale che ogni classe produca un un album cioè una una pagina ogni pagina su un argomento capito si si gli ebrei gli ebrei gli ebrei la diaspora ebraica oppure la la pasqua che ne so no cioè un argomento o ogni pagina e hai il tuo programma svolto Alberto scusami posso fare una domanda quindi in questo caso il lavoro in classe basta è sufficiente anche un solo computer lo può fare anche un gruppo di 2 3 ragazzi perché poi se no si riduce se c'è in una pagina per classe 4 5 immagini e una è una classe almeno 18 alunni devi suddividere un'immagine per devono farlo a gruppo un lavoro che dovrebbero farlo in gruppo sì però si è capito però si riduce un po' troppo qualcuno che si adagia all'altro allora questo lavoro nasce come lavoro individuale quindi ogni ragazzo prepara una figurina e all'interno di una classe tu hai 29 36 figurine quindi ne fanno una o due a testa perché individuale per i motivi che ho spiegato prima l'impegno le varie cose se tu vuoi organizzare invece perché hai tante classi eccetera quindi un lavoro di diverso tipo che cosa fai? tu devi suddividere una figurina vale tre persone perché l'immagine deve essere appropriata è un lavoro il testo di fianco un altro lavoro e quello sotto un altro ok quindi se una pagina contiene quattro figurine tu hai il lavoro 12 persone più lo sfondo che possono essere altre due quindi ne hai 14 in sostanza se sono se riesci ad aggiungere un'altra figurina ne hai una in più ok e poi chiaro hai altre tre persone in più e per il lavoro che tu prima hai accennato tutti fanno tutto e quindi non è che un ragazzo fa un solo argomento e poi gli altri non li fa come lo organizzi il lavoro in classe per far sì che tutti poi lo fanno in maniera sempre personalizzata ognuno si no ma è semplice perché noi studiamo un argomento per esempio studiamo la seconda guerra mondiale e questa la devono studiare tutti perché abbiamo le verifiche abbiamo varie cose ah da lì pro normale sì fanno quella lezione ok poi dentro dentro la normalissima lezione che facciamo che può essere come vuoi frontale di cooperative learning sui tetti nel sottobusco come pare a te però tutti hanno affrontato quella poi ci sarà chi lo sa meglio chi è più no questo è chiaro ma è in quel quadro lì che poi ti dirai allora facciamo così Mariolino prepara una cosa su questo tu su quell'altro eccetera ma come lavoro interno quindi sulla seconda guerra mondiale ci saranno quattro ragazzi su tutta la classe che preparano le figurine sì ma poi c'è la guerra fredda ma poi c'è un altro argomento quindi alla fine dell'anno tutti avranno occasione di preparare almeno una figurina e di discuterla con la classe sì 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 un po' come nei film americani quando vedi i ragazzini o i bambini anche dalla scuola elementare che portano del lavoro di scienza ognuno porta un animale però lì lo portano a scuola e fanno la lezione agli altri compagni solo che qui però c'è una differenza che nella scuola americana ogni ragazzo conosce solo il suo animale qui no infatti qui no qui noi abbiamo studiato gli animali abbiamo studiato la savana e la savana l'abbiamo studiata tutti siccome l'abbiamo studiata tutti adesso tu Chiara tu Corby tu Marina e io Alberto facciamo le quattro figurine di questo argomento è una cosa come qualche cosa in più in più che migliora la valutazione ti dà degli altri punti eccetera eccetera di nuovi giudizi nuovi elementi e così via perché poi io le valuto tutte queste cose chiaramente e sono valutazioni positive molto interessanti perfetto sì e solo bisogna capire bene come creare l'album per chi non è proprio ferrata in questa cosa vedevo che c'era una che chiedeva sulla chat come si chiama l'app per creare il libro interattivo sì e sono arrivata con un po' di ritardo non so se mi sono persa no ma non l'ho spiegato il libro interattivo è troppo complicato va bene ho solo fatto vedere che c'era questa possibilità pensavo di aver perso qualcosa ok grazie no 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 vedo che Rosa ci saluta ci saluta un po' di gente direi che forse ci possiamo salutare se ho risposto alle domande se avete qualche cosa da chiedere insomma non so così mi potete scrivere spero che siate rimasti soddisfatti che soprattutto questa questa metodologia panini funzioni vi abbia catturato no grande idea no no io non ho mai fatto una raccolta di figurine in vita mia mai ma dai no hai partecipato al seminario fino adesso cioè hai rotti i cabasini fino a questo punto per poi venirci a dire che non ha mai fatto neanche una raccolta mia ma roba la vantica perché io non sono sistematica quindi mi perdevo pensavo alle mie sorelle ma io non ho mai fatto nessun coso per cui adesso allora la devi fare devi fare ti obbligo a fare una vai in edicola e fai una raccolta qualsiasi ma falla no no comunque fai una raccolta sui grandi belli di Hollywood quello che vuoi ma fai una raccolta delle figurine va bene ma che elementi ma gli insegnanti sono degli elementi pazzeschi forniti modelli apposta anche perché così è ancora più semplice capite che con un'applicazione che tutti usano che sanno usare alla fine si tira fuori il risultato quello che conta è il metodo però cioè se tu Corby devi presentarmi la figurina su Eric Clapton domani tu domani devi avere la figurina su Eric Clapton se no uno hai un brutto voto perché tu ti prendi un impegno di fronte a tutti e questo è importante poi non importa che tu abbia sbagliato a scrivere questo fa parte dell'apprendimento corregiamo andiamo avanti eccetera ma è proprio il metodo cioè tu stai facendo un lavoro per noi un lavoro che tutta la classe presenterà che ha stampato non è la solita cretinata così sul che vedi con la Lim questo quell'altro powerpoint cosa abbiamo fatto no questa è una cosa editoriale seria la classe diventa una redazione se vogliamo noi siamo dei piccoli scienziati che validano quello che tu hai detto e hai presentato non per cazziarti ma perché noi dobbiamo essere rigorosi questo è importante tu devi assolvere questa parte è come invece del quotidiano di stampare il giornale che un tempo si faceva anche ai nostri tempi sono dei piccoli opuscoli di cultura più che album noi lo sminuiamo perché catturiamo l'attenzione che i ragazzi sentono albumo panini è ovvio che c'è un po' di non dico marketing perché questo passo non ce n'è voi chiamatevelo metodo panini ciao Enrico grazie al tempo che ci hai dedicato grazie Alberto vi saluto tutti grazie mille veramente buona serata buona serata grazie a te grazie grazie buon weekend ciao a tutti anche a te grazie ciao grazie ciao ciao grazie infinite sempre molto stimolante ciao grazie sono contento grazie a te Sonia buona serata e grazie mille ciao ciao buona serata buon weekend e ciao a tutti grazie a te